Evitare quello accaduto a Torino di recente o in altre città d'Italia, dove per mettere fine alla movida rumorosa sono intervenuti i giudici costringendo i comuni a mettere ordinanze sulla chiusura dei locali. La maggioranza del comune di Pescara non vuole arrivare a questo, lo ha ribadito questa mattina il capogruppo della Lega Vincenzo Dincecco durante il consiglio comunale che all'ordine del giorno prevedeva l'approvazione del piano antirumore. Il piano di risanamento acustico è semplicemente un elenco di azioni volte a limitare o comunque a cercare di risanare, come dice il termine, quello che accade in una zona e che porta quindi in quella zona a un costante superamento di decibel che creano disturbo, non solo disturbo, ma possono creare anche danni alla salute, è un dato accertato dalla norma, quindi anche lì. Quindi noi siamo costretti ad operare da questo punto di vista. Negli anni passati tutto ciò non è accaduto, non è stato fatto nulla in tal senso e si è andati verso una deregolarizzazione costante. Noi ci troviamo all'angolo costretti a affrontare il tema con la giusta saggezza di chi sa che governare significa anche affrontare soluzioni mai risolte per anni e non perché siamo contro qualcuno o qualcun altro, ma perché dobbiamo andare incontro a quelle che sono le normative che ci prescrivono di operare in questo senso. La maggioranza attacca i problemi, c'erano già quando l'attuale minoranza era allora, governava la città? Sì, c'erano già prima questi fenomeni di contrasto tra chi vive e chi risiede. Purtroppo negli ultimi tre anni non c'è stato un fenomeno invece di risanamento che doveva essere fatto con ad esempio una punizione degli esercenti che non rispettano le regole con delle azioni anche di contenimento e di nuove aperture e invece le aperture sono state consentite, autorizzate fino a poche settimane fa. Quindi non si può dire che tutto nasce quando c'era la vecchia amministrazione perché in realtà in questi tre anni il problema è continuato così come era stato gestito prima, nel bene e nel male. Il problema è che con questo strumento che si propone oggi sostanzialmente si va soltanto a punire gli esercenti che rispettano le regole senza dare alcuna prospettiva di risanamento vero se si deve parlare di risanamento della zona. Noi crediamo che sia necessario invece un progetto condiviso a monte tra residenti ed esercenti finalmente per dare una stabilità a tutta la zona perché in questo modo con questi strumenti si continua a fare la guerra civile che non vogliamo.